qualcuno dice che esistono storie che non esistono qui a napoli esistono storie che non si raccontano ci sono tante cose da fare tante cose da risolvere tanti problemi città complessa città difficile però non si riesce a far conoscere anche quello che sta accadendo nella nostra città in controtendenza rispetto al verbo unico e al pensiero unico privatizzare che è preponderante nel governo delle larghe intese in tante amministrazioni comunali anche di centro sinistra nel paese bene noi a napoli abbiamo deciso di pubblicizzare servizi essenziali di rafforzare il ruolo del pubblico ma non perché abbiamo deciso di intraprendere una battaglia ideologica contro i privati anzi a napoli abbiamo deciso che il verbo che conta è quello dell'applicare il bene comune e nell'applicazione del bene comune pubblico e privato debbono e possono andare insieme quindi il nostro interesse è l'interesse per la città ben vengano interessi privati a favore della città ben vengano imprenditori privati nell'interesse della città però per quanto riguarda i servizi essenziali noi abbiamo deciso di puntare sul pubblico faccio alcuni esempi napoli unica grande città d'italia che ha attuato la volontà del referendum sull'acqua pubblica a napoli c'è un'azienda di diritto speciale che gestisce l'acqua pubblica quindi c'è una ripubblicizzazione totale dell'acqua pubblica il servizio dei rifiuti in altre città si privatizza da noi tutto pubblico il sistema di urgenio urbana raccolta dei rifiuti ed è finita l'emergenza rifiuti e le infiltrazioni affaristico camorristiche all'interno del ciclo dei rifiuti nella città di napoli napoli è l'unica grande città d'italia che ha internalizzato tutto il patrimonio pubblico quindi è il comune di napoli che gestisce il patrimonio pubblico anche attraverso una sua società partecipata in altre parti si privatizza il trasporto pubblico noi abbiamo creato una grande holding del trasporto pubblico c'erano tre società partecipate per ridurre i costi eliminare sprechi un'unica azienda del trasporto pubblico che fa ferro gomma e parcheggi e così potremmo anche continuare quindi questa è una storia che noi verremmo in qualche modo venisse raccontata abbiamo salvato il comune dal fallimento abbiamo salvato le società partecipate quelle essenziali non abbiamo licenziato una lavoratrice un lavoratore abbiamo puntato sul pubblico ovviamente lanciando una sfida che è tutt'altro che vinta ma una sfida che va in controtendenza rispetto a chi ha deciso di privatizzare smantellare ridurre i diritti licenziare mettere sul mercato bene questa storia noi la vogliamo raccontare con grande forza napoli punta al bene comune punta a mettere insieme interessi pubblici e interessi del mondo privato verso il bene comune ma napoli una città che ha deciso nonostante i tagli del governo nonostante la spending review nonostante le tasse governative a puntare sul pubblico eliminando sprechi e dimostrando che ci possono essere servizi pubblici efficienti ed efficaci ovviamente ci dobbiamo lavorare tutti e io confido molto anche sull'orgoglio dei lavoratori pubblici della nostra città perché questa è una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme dimostrando che si può salvare il sociale il pubblico senza smantellare senza comprimere diritti e riuscendo a garantire soprattutto i servizi ai nostri concittadini un'altra storia che non si racconta è che napoli punta al recupero e alla riappropriazione di spazi e diritti negati per 60 anni napoli è stata occupata dalla nato un quartiere la nostra città bagnoli 100 mila metri quadri recintati dal filo spinato con le camionette dei militari dove si decidevano le guerre in tutto il mediterraneo la guerra nell'ex yugoslavia la guerra in afghanistan la guerra in iraq bene con un lavorio difficile lento e complicato ci siamo riappropriati di quell'area la nato non è più presente con quella base così strategica nella nostra città e quei 100 mila metri quadri vengono restituiti alla città al posto del poligono un teatro nel luogo in cui si facevano i consigli guerra una scuola i campi sportivi per i ragazzi della nostra città laboratori centri di produzione dal basso economia reale dal basso le campagne in cui fare esperienze di agricoltura cittadina sono 12 ettari destinati a quello insomma un'esperienza importante di economia dal basso di produzione sociale di sport di tempo libero della città dei giovani di teatro e cultura questa è un'altra storia che non si racconta non si riesce a raccontare mentre altri blindano chiudano chiudono lucchettano conservano noi cerchiamo tra mille difficoltà di aprire nella convinzione che i napoletani sapranno gestire con intelligenza in modo plurale dei luoghi così ampi